Andiamo a cercare il piede Vincitore di numerosi concorsi Tra cui il Guido D'Arezzo in Italia Il concorso è stato dal maestro Godai A far partire un programma che ha fatto il tempo E discutiamo E adesso finalmente è l'unico momento di realizzarlo Si tratta della scuola di Gatto Carimardini Finalizzata la costituzione di un corso Applausi Misericordia del mondo Grazie Misericordia del mondo 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.